il coin roll è una fioritura con le monete particolarmente semplice e di effetto per imparare questa fioritura dovete tenere la moneta bilanciata sul pollice come vedete qua e farla girare sull'indice a questo punto alzate il dito medio e fate girare la moneta di 180 gradi e ripetete poi con l'anulare e infine col mignolo a questo punto il pollice torna sotto bilancia nuovamente la moneta in equilibrio e ricomincia il giro portando la moneta sopra l'indice quindi sul medio annulare e mignolo bene questo è tutto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e a seguirci sui nostri siti con tanti altri tutorial di magia